Ciao ragazze, in questo video vi propongo la mia skin care routine, come mi prendo cura della mia pelle, tutti i passaggi e tutti i prodotti che utilizzo sia la mattina che la sera. La prima cosa che faccio la mattina dopo essermi svegliata è andare a detergere il mio viso, quindi prima vado leggermente a inumidirlo e poi utilizzo questo prodotto della Garnier Pure Active 3 in 1. Lo utilizzo tutte le mattine semplicemente andando a massaggiare il prodotto con movimenti circolari su tutto il viso, mi concentro specialmente nella zona T e poi vado a risciacquare con acqua tiepida. Poi passo ai denti, mi lavo i denti, step fondamentale la mattina dopo aver fatto colazione e per essere ancora più sicura vado a detergere maggiormente il mio viso con questo Latte e Fiori Rari di L'Oreal. Lo utilizzo appunto per detergere maggiormente il mio viso, lascio la pelle super super morbida e in più il profumo è delizioso. Lo vado semplicemente ad applicare con un dischetto di cotone su tutto il viso. Poi arriva lo step delle sopracciglia, le mie sono terribili, ho un sacco di buchetti però cerco sempre di sistemarle un pochettino specialmente nella parte sottostante, sotto l'arcata sopraccigliare. Poi passo ai punti neri, utilizzo sempre questo strumento in acciaio. Lo vado semplicemente a passare sul naso dove ci sono appunto le impurità, vi assicuro che funziona alla grande. E se la mattina ho un attimo più di tempo, mi concedo sempre una maschera, oggi ho utilizzato questa all'argilla pura anti imperfezioni di L'Oreal. La utilizzo circa 2-3 volte a settimana, la vado a stendere con questo pennellino, poi la tengo in posa dai 15 ai 20-25 minuti, va a detossinare e illuminare l'incarnato. Questa è perfetta per le pelli impure. E una volta che la maschera si è seccata per bene la vado a rimuovere o con dell'acqua tiepida oppure a volte mi capita di rimuoverla anche con una salviettina struccante. E dopo la maschera, ma prima del make-up, utilizzo tutte le mattine questa lozione, questa crema per il viso di Clinique. Vado semplicemente a riscaldare una noce di prodotto tra le mani e poi la vado a stendere su viso e collo. Inoltre mi sono accorta che la pelle è super morbida, elastica e anche più luminosa. E l'ultimo step prima di passare al make-up è dedicato alle labbra. Vado ad utilizzare questo Lip Scrub di Puro Bio che è fantastico, mi sta piacendo un sacco. Lo vado semplicemente ad applicare sulle labbra e vado a massaggiare con le dita. Ha dei piccoli granelli all'interno, quindi vado a sfogliare le labbra. Poi passo alla Lip Cream. Questa si presenta come sottoforma di maschera, infatti la tengo in posa dai 10 ai 15 minuti. Come potete vedere, massaggio un pochettino la crema e mi lascia le labbra super super morbide. E dopo una giornata di lavoro, torno a casa e vado a struccare il viso. La primissima cosa che faccio, metto come sempre la mia amatissima fascia per capelli e poi passo allo struccaggio. Utilizzo questo prodotto di Clinique Take the Day Off. Ragazzi, questo prodotto, questo olio è fantastico. Vado a scaldare una noce di prodotto sulle mani e poi vado semplicemente a massaggiare il prodotto su tutto tutto il viso. Come potete vedere, il trucco si scioglie davvero all'istante. Ci metto circa 2-3 minuti al massimo. Vado poi a bagnare il viso, in questo modo l'olio si trasformerà in latte e poi vado definitivamente a risciacquare il viso con dell'acqua tiepida. Per essere sicura di aver rimosso ogni residuo di make up, vado ad utilizzare questa mousse detergente agli estratti di agrumi di sefra. E la utilizzo con questa spazzola elettrica di Darfin, che è fantastica. La sto utilizzando ormai da 3 settimane e mi ci sto trovando davvero benissimo. Devo dire che da quando sto utilizzando questo dispositivo mi sono accorta che la mia pelle viene pulita più in profondità, senza però danneggiarla. E come potete notare è andata a rimuovere anche gli ultimi residui di make up. E anche la sera vado ad utilizzare il detergente latte fiori di L'Oreal su tutto il viso. Sempre con questo dispositivo, ma andando a cambiare testina, vado a massaggiare questa crema rivitalizzante di Estée Lauder su viso e collo. Da quando la sto utilizzando mi sono accorta che la mia pelle è molto più radiosa. E devo dire che ho notato anche una maggiore compattezza. E anche la sera, se è un po' di tempo e mi piace fare una maschera, stasera ho deciso di utilizzare questa in oro 24 carati. È divisa in due parti, c'è la parte degli occhi e della fronte e poi c'è la parte delle labbra e della mandibola. Questa l'ho tenuta in posa tantissimo, circa 35-40 minuti. Poi sono andata a rimuoverla e ho distribuito il prodotto rimasto su tutto il viso. Uno degli ultimi step che faccio la sera prima di andare a dormire è utilizzare questo siero riparatore di Estée Lauder. Da quando lo sto utilizzando, ormai sono circa due mesi, ho notato un sacco di miglioramenti. Questo siero è perfetto contro i segni di invecchiamento, favorisce anche la riparazione cellulare ed idrata la pelle. Vado poi a utilizzare questo Smile Detox di Merci Andy dopo essermi lavata i denti, metto un po' di burro cacao e sono pronta per andare a dormire. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale, vi mando un grandissimo bacio. Ciao!